Folli, come avete scelto l'area del Funtanin per la progettazione e la realizzazione della nuova scuola? Dunque, per la scelta della collocazione definitiva sono stati consultati tutti gli enti, quindi in particolare la soprintendenza, l'ASL, i vigili del fuoco, cioè tutti gli enti coinvolti nell'approvazione di questo progetto e si è deciso di realizzarla nell'area del Funtanin. A differenza del progetto originario con il quale è stato ottenuto il finanziamento regionale, si è deciso di spostarsi al Funtanin sia per un problema di logistica, nel senso che c'è già tutta una dotazione di parcheggi, viabilità, eccetera, e anche per un discorso paesaggistico, perché comunque sia, pur avendo un'esposizione migliore dell'altra, perché l'esposizione del preliminare era fondamentalmente a nord, qui rimarrebbe tutta esposta a sud, ma in un punto in cui rimane meno visibile, meno percepibile a livello paesaggistico, per cui si è deciso di spostarla nell'area del Funtanin. Grazie.